Compie 70 anni, elettronica S.P.A., società di ricerca e innovazione che ha permesso a equipaggi e piattaforme militari di oltre 30 governi nel mondo di tornare a casa sani e salvi. Nella cornice del laboratorio di scenografia del Teatro dell'Opera di Roma si è celebrato l'anniversario con un evento dedicato alla visione sul futuro. Presenti i ministri Guerini, Giorgetti e Di Maio. Partiti in un laboratorio con 25 dipendenti, oggi è una realtà con più di mille persone e cinque sedi nel mondo. L'azienda, guidata dal presidente e amministratore delegato Enzo Benigni, ha fornito oltre 3.000 sistemi di sorveglianza strategica, autoprotezione, difesa elettronica e supporto operativo per applicazioni aeree, navali e terrestri.